Le fregature che si possono ricevere dai provider di telefonia o internet se non si sta molto attenti alle specifiche del contratto di telefonia o di connettività internet a cui si intende aderire. Come si può notare dalla videata ad esempio ora mostrata, questa offerta di Tiscali, ma potrebbe essere qualsiasi altro fornitore, prevederebbe il pagamento di 4,95 euro al mese per i primi tre mesi per poi passare a 9,95 euro mensili. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Ma andando a verificare più approfonditamente la questione, avremmo una brutta sorpresa. Dopo aver verificato la disponibilità del servizio, in quest'altra pagina si nota infatti che il prezzo è più che raddoppiato, diventando più di 20 euro. Sembra che questo sia dovuto al fatto che per i clienti dell'area indicata non sia disponibile il servizio, che permette di pagare solo 4,95 euro. E purtroppo le zone dove tale servizio a basso costo non è disponibile sono davvero una marea. Evidentemente questo provider, e non è il solo, ritiene che ci siano clienti di serie A e clienti di serie B.